Al via i tanto attesi lavori di riqualificazione dei giardini porcinai. Obiettivo del progetto però non è solamente la riqualificazione urbana e il restyling, ma anche la sicurezza e la vivibilità di un angolo della città a pochi passi dalla stazione di Arezzo, spesso teatro di episodi di degrado, spaccio e microcriminalità. Il progetto del Comune, sviluppato assieme alla sovrintendenza, prevede aderenza al disegno originale, ma propone anche elementi di modernizzazione, una nuova illuminazione, videosorveglianza implementata, adeguamento della rete fognaria e la fermata di Arezzo Grand Tour, un progetto che ha coinvolto anche Anna Porcinai Mazzi, la figlia dell'architetto paesagista Pietro Porcinai. È stata già recintata la porzione di giardino che va da Piazza della Repubblica e il chiosco dell'ex edicola dei Bastioni. Gli interventi riguarderanno la pavimentazione architettonica in massetto e una finta iaia drenante. Da ottobre poi si sposteranno nell'area che va dai Bastioni al parcheggio Eden. Il totale dell'investimento per la riqualificazione è di circa un milione di euro. I lavori andranno avanti sino all'inizio del 2025. In questa zona della città, dai primi giorni di maggio, in attesa dell'avvio del cantiere, era già stata attivata la vigilanza privata, proprio per presidiare il territorio.